Se state avendo difficoltà riguardo a FIFA 25, riguardo alla connessione che non si connette così ai server, quindi non vi trovi neanche una partita, oppure vi crash direttamente dalla partita quando state iniziando e giocando. Quindi in questo caso può essere anche l'antivirus che potrebbe bloccare così FIFA 25, oppure faremo così un ripristino sulla nostra connessione internet. Quindi in questo caso vai direttamente sullo scudo qua sotto di Windows Defender. Vai direttamente su protezioni, firewall e della rete ed eccoci qua su protezioni, firewall e della rete. Come puoi vedere consenti app tramite firewall, ovviamente tu devi cliccare su consenti app tramite firewall e devi inserire FIFA 25, ovviamente a me non me lo fa mettere perché è controllato dall'Avast, quindi in questo caso vado direttamente su rete pubblica, apri l'app ed eccolo qua, protezione. Vado su firewall ed eccolo qua. Se tu clicchi su consenti app tramite firewall, devi andare su sfoglia e inserire così l'applicazione FC 25.exe come sto per fare io. Vado su altro e faccio consenti nuova app. Quindi vado direttamente nella cartella del gioco, vado a prendere così FIFA 25 ed eccola qua. E la inserisco qua dentro. Tutto il traffico in entrata e uscita è consentito per questa applicazione. Così facendo l'antivirus non darà più fastidio a FIFA 25. Faccio fatto. Tramite così la protezione di firewall e della rete. Una volta fatto puoi anche chiudere questa scheda e andiamo direttamente sul CMD. Prompto dei comandi e seguiamolo come amministratore. In descrizione ti ho lasciato così dei comandi da inserire qua sopra. Ovviamente iniziamo prima dall'IP config release. Questo qua andrà a disconnettere così la tua rete. Si è disconnesso così la rete. E ora andiamo così a prendere il secondo comando per riconnetterci. E poi svuotiamo le cache. Cache delle risolve DNS svuotate. E chiudiamo qua. Ora andiamo sulla nostra rete in posizione rete e internet. Ovviamente ti consiglio sempre di usare un cavo Ethernet al posto della Wi-Fi perché è molto meglio. Impostazione di rete avanzate. Questa è la mia connessione. Vado qua sopra. Faccio modifica. Protocollo Internet versione 4 TC PV4 ed eccolo qua. Ottieni sempre un indirizzo server DNS automaticamente. Se no puoi usare sempre dei DNS alternativi tipo per esempio quello del Cloudflare tipo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 e qua 1. Per usare un altro indirizzo server DNS e fai ok. Io ovviamente uso sempre un DNS automaticamente. Una volta fatto andiamo direttamente sul ripristino della rete. Puoi semplicemente ripristinare la tua rete. La tua rete Wi-Fi e poi devi aggiungere di nuovo la tua password sulla connessione Wi-Fi e basta. Poi il PC verrà riavviato. Se non dovesse bastare. Se hai problemi sempre sull'applicazione EA o problemi di FIFA puoi andare direttamente su AppData. Quindi scrivi qua sopra e esegui. Scrivi qua sopra per cento, AppData per cento e fai ok. Scendi fino a giù fino a trovare. Quindi vai su AppData o vai su Local. Se qua dentro c'è la... Eccola qua Electronic Arts. Puoi semplicemente cancellare questa cartella. Riaccedere di nuovo al tuo account con le tue credenziali. E poi aprire di nuovo FIFA. E vedere se nelle partite non crashi più o non hai più quegli errori di quanto non si connette ai server o alle partite. Se hai problemi commenta sotto al video. Se hai ancora altri problemi c'è una playlist intera di tutti gli errori su FIFA 25 in alto a destra. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.